Il cisplatino è un farmaco antitumorale con risvolti molto pesanti sulla funzionalità renale. Uno studio clinico condotto su 60 pazienti ha dimostrato che l'assunzione giornaliera di 140 mg di silimarina 7 giorni prima di iniziare la terapia antitumorale può ridurre la nefrotossicità del cisplatino senza provocare effetti collaterali. Sebbene siano necessari ulteriori studi clinici, la silimarina, naturalmente sotto controllo specialistico, può essere utilizzata come rimedio per ridurre i danni renali da cisplatino. Oltre a questo studio clinico esistono anche altri studi clinici che mostrano come la silimarina sia capace di favorire la rigenerazione delle cellule renali aumentando la sintesi delle proteine e degli acidi nucleici. Sembra infatti che la replicazione cellulare possa essere aumentata fino ad un massimo del 30% e che i principali composti responsabili di questa funzione siano la silibina e la silicristina. L'attività nefro protettiva del cardomariano può essere utile anche in caso di nefropatia diabetica poiché sembra che la silimarina sia capace di ridurre di circa il 50% il rapporto tra albumina creatinina nelle urine dopo un trattamento di tre mesi. Se avete delle domande o delle curiosità sul cisplatino o sulla silimarina per via della sua funzione nefro protettiva potete farmene nei commenti oppure scrivermi a infochiocciola voxalcorporation.com. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, condividere i contenuti e lasciare qualche like e noi ci vediamo al prossimo video.